LIC! Ben ritrovati i miei cari eventori dell'Ugiona a Barcalcio. Oggi è venerdì, lunedì si gioca, ci sarà Bologna contro Ellas Verona e finalmente c'è da dire che i nazionali stanno tutti rientrando perché anche i sudamericani, penso che nella giornata di oggi, rientreranno comunque a Bologna pronti per tornare ad allenarsi ai dettami tecnico-tattici di Sinisha Mialovic al più tardi o penso domani e già oggi comunque tutti i nazionali europei sono già agli ordini di Mialovic quindi sono tutti lì che stanno lavorando per preparare la sfida di lunedì che continuo e ribadirò sempre la partita più importante che il Bologna deve giocare è sempre la prossima. Quindi senza fare volipindarici a quello che avremo tra due settimane, tre, il Tour de Force che magari in un certo momento del campionato andremo ad affrontare. Ok, non mi interessa. Noi dobbiamo guardare partita per partita. Se capiamo questo siamo già a metà del guado. Adesso abbiamo il Verona che è una formazione che dobbiamo rispettare, non temere, rispettare e consapevoli che ovviamente siamo superiori tecnicamente perché lo siamo, ok? E quindi pur rispettando l'avversario e quindi non fare l'errore che secondo me sarebbe un errore, ritornare completamente al modulo all'arma bianca di Mialovic cioè tutti all'attacco e la filosofia è fare un gol più degli avversari perché se faremo questo secondo me andremo molto in difficoltà, ok? Se invece ovviamente senza giocare col Verona così come si è giocato con l'Atalanta, ovviamente perché ogni partita deve essere analizzata per quello che è. Il Verona con tutto il bene che si vuole all'Ellas non è certamente l'Atalanta e quindi sì rispetto però bisogna essere anche consapevoli che siamo superiori. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che dobbiamo fare un certo tipo di partita certamente non di attesa, certamente non di ripartenza laddove invece di attesa e di ripartenza era concesso e anche auspicabile che si dovesse fare in quel di Bergamo contro l'Atalanta così come mi auspico di rivedere in futuro contro che ne so andiamo a Milano a giocare con l'Inter mi sembrerebbe presuntuoso presentarsi là, andiamo tutti in avanti ragazzi perché facciamo un gol uno più dell'avversario. Quindi a meno che non si vogliano fare 10 gol contro l'Inter a Milano non lo so, vedete voi. Quindi mi sembra logico a secondo dell'avversario cambiare le sorti tattiche della partita. Conto in Verona mi aspetto quindi un Bologna propositivo ma senza esagerare, equilibrato ragazzi ci vuole equilibrio in campo e quindi Mijailovic avrà un bel da fare soprattutto per sciogliere gli ultimi nodi legati alla possibile 11 che potrà schierare in campo ma che comunque quello è un video che farò a ridosso della partita più avanti perché adesso la partita è lunedì quindi il video sulla probabile formazione lo rimando, adesso parlo in linea generale. Dubbi che riguardano tante zone del campo a cominciare comunque dai sudamericani che rientrando oggi ed essendo effettivamente disponibili per Mijailovic per allenarsi in vista della gara di lunedì solamente da domani dovrà anche valutare caso per caso se sarà il caso per l'appunto scusate il gioco di parole di schierarli e se sì quali? Sicuramente Medel se sta bene avrà quasi certamente il posto da titolare perché adesso Medel è quasi inamovibile ok? Per quanto può dare anche da un punto di vista di carisma e leadership di guida perché ci serve un difensore che sappia guidare la difesa perché abbiamo visto che Bonifasti ad esempio vicino a Medel lasciando le redini a Medel Bonifasti è migliorato in maniera consistente con Medel a fianco. Laddove invece Medel dovesse venire meno ed essere Bonifasti a guidare una possibile difesa con Somauro io mi toccherai Maroni perché abbiamo visto tutti i limiti di questa coppia perché nessuno dei due riesce a guidare l'altro e Bonifasti secondo me deve rimanere umile se lui rimane umile e non esagera durante la partita ok allora può fare bene se lui invece si prende troppe confidenze ok con il pallone e cerca di fare alla Bernardeschi la dico la giocata allora va in difficoltà io dico a Bonifasti resta calmino ok segui il tuo compagno di reparto non strafare ok e auguriamoci che sia Medel appunto a giocare insieme a Bonifasti a questo punto lunedì sera perché Tirte è ancora comunque un ragazzo appena arrivato che dovrà un attimo entrare nelle alchimie della Rosa e quindi non è assolutamente pensabile anche laddove fosse nuovo Sergio Ramos per dire che possa subito scendere in campo fermo restando che se fosse nuovo Sergio Ramos sì però tutto mi lascia intendere che così possa non essere comunque staremo a vedere perché anche sul Tirte io ho molta curiosità a dire il vero non vedo l'ora di vederlo scendere in campo per capire di che pasta si è fatto quel ragazzo dalla cappigliatura abbastanza stravagante molto bella devo dire poi altre dubbi di formazione potrebbero venire sulla sulle ali perché se è vero che va diciamo aiutato Musabarro nel ritrovare la forma migliore e come si fa a ritrovare la forma migliore per un calciatore dandogli fiducia facendolo giocare e anche dall'altra parte c'è sempre come leggo adesso il dubbio tra Orsolini o Scovolsen che tanto ha fatto bene in Danimarca tenete conto che non è la prima volta che Scovolsen viene da gol di Danimarca mi ricordo di una doppietta che fece Mialovic lo mise dunque titolare perché aveva negli occhi fastidi quello che aveva fatto quella Danimarca e mi ricordo che fu un pianto greco quello di Scovolsen in campionato nonostante reduce dalla doppietta in Danimarca quindi vuol dire tutto e non vuol dire niente io anche qua esorterei mister Mialovic a prendere delle decisioni e mantenerle per un po perché io la butto lì e vi chiedo e fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate a riguardo ma voi siete d'accordo con una gestione dove ad esempio si dà fiducia a un calciatore e il calciatore stesso sa che se non riuscirà a far vedere quello che il mister si aspetta in partita al sessantesimo massimo viene sostituito dal suo alter ego con cui in imballottaggio perché voglio anche sottolineare come nel caso della corsia di destra ok cioè Orsolini e Scovolsen siano ormai in ballottaggio io penso da più di un anno e nessuno dei due riesce ad avere la meglio sull'altro cioè chi per un motivo chi per un altro è succube del suo del suo alter ego di squadra perché ogni volta almeno qui parlo per me è una considerazione mia personale ogni volta che vedi in campo Orsolini ci sono delle volte dopo che sbaglia l'ennesimo cross ok sbaglia la giocata perde palla è un giocatore che si fa vedere in partita di questo io l'apprezzo perché si fa molto vedere si prova e questa è una prerogativa molto importante perché ci sono altri giocatori ad esempio che quando sono in campo spariscono vedi ad esempio in ampi momenti della partita quello che succede con Musabarro Musabarro di questo punto di vista è un giocatore che delle volte scompare durante la partita mentre Orsolini no Orsolini va detto che è sempre in partita però sbaglia veramente un'infinità di palloni da un anno a più a questa parte che è preoccupante che dopo un po' che li vedi sbagliare il nonno il decimo ti viene da esclamare ok giustamente lasciatemi dire mettiamo su scovolse perché non è perché pensi che scovolse sia migliore è un grido di disperazione che poi prontamente viene seccato quando vedi in campo scovolse dopo cinque minuti e allora rimpiangi Orsolini almeno questo è il mio sentimento non sai mai chi sia dei due meglio per il semplice motivo che laddove ci fosse valuteresti la terza scelta ma la terza scelta la nostra società ha pensato di non volersene avvalere non facendo niente sul mercato quindi dobbiamo fare con Orsolini e scovolse però io dico a Mianovic prendi una decisione cerca di dare fiducia ad uno dei due ragazzi ok ovviamente sì senza svilire l'altro per carità però insomma così facendo nel lungo periodo quasi mi sta dando l'idea che si stanno svilendo entrambi quindi bisogna poi fare anche delle scelte nella vita e parlarsi chiaro quindi questi anche Musabarro appunto stavo dicendo quasi sicuramente secondo me potrebbe partire titolare per fargli ritrovare la condizione fisica perché mi pare che sia rimasto ad allenarsi in questo periodo a Casteldebole non è partito con il con la Gambia perché alla Gambia mi pare di ricordare che avesse annullato i suoi impegni le sue amichevoli quindi io penso che Musabarro sia in teoria in forma partita poi certo Mianovic ha il termometro della situazione sotto mano perché lui sa e vede Sansone che è il suo alter ego sulla sinistra e Musabarro in allenamento come si stanno allenando in questi giorni e prenderà da questo punto di vista si spera la soluzione certamente migliore. Là in avanti invece nessun dubbio perché c'è un Arnautovic in grande spolvero che certifica la bontà almeno per il momento dell'operazione che il Bologna ha fatto e di questo quindi bisogna dare grande merito perché è stata un'operazione sì onerosa ma ripeto a noi tifosi puoi stare lì sempre con le calcolatrici in mano a noi diciamoci la verità poco ce ne frega cioè a noi interessa che arrivino a giocare dei giocatori forti e Arnautovic è un giocatore forte quindi benvengano giocatori di questo calibro anzi io mi sarei aspettato e con questa chiudo di vederne in questo calcio mercato acquisirne anche altri non so voi ma io almeno un altro stando anche alle parole di Sabattini che adesso vediamo se le riesco a prendere disse sul resto del Carlino 24 marzo 2021 venderemo uno o due giocatori infatti è stato venduto Tomiasu ma ne prenderemo un paio con esperienza dice prenderemo due o tre giocatori di età media con esperienza alle spalle e la qualità per migliorare il valore dell'organico vi lascio con questa chicca e lasciatemi nei commenti chi sarebbe l'altro giocatore a parte Arnautovic e addirittura dice due o tre quindi gli altri due anche i giocatori oltre all'Arnautovic che sono arrivati con un certo tipo di esperienza perché anche qua come vedete alle parole non sembrano essere seguiti i fatti mi cari vintori fatemi sapere dunque cosa ne pensate attivate subito il campanaccio pastorale per rimanere sempre aggiornati qui allo giocatore per caccio dei nuovi video iscrivetevi al canale amrachmand condividi condividi il canale con tutti i tuoi amici di federo su blu e non solo ricordati sempre il mi piacino per sostenere in maniera gratuita il canale quindi mettilo adesso mi piacino e noi ci sentiamo alle prossime chiacchiere da bar mi stavo sbagliando ciao ciao